Grazie a tutti. 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 Siamo tutti nel tuo cuore, nei tuoi pensieri. Sei potente, sei glorioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo fare questa contesia, tu che sei il santo, tu ci riversi, le tue grazie e le tue benedizioni su di noi, sulla nostra vita, sui nostri cari, sulle nostre famiglie, in ogni situazione, Signore Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.